Ultimamente si sta parlando sempre di più di intelligenze artificiali. Potete vedere il grafico preso da Google Trends e vedete come l'argomento è in continuo e costante aumento. Nella maggior parte dei casi però si declinano questi argomenti, l'argomento dell'intelligenza artificiale, soltanto parlando di chat GPT, lo strumento che consente di scrivere qualcosa all'interno di una chat e di vedersi effettivamente restituita una risposta. Ecco che però esistono anche molti altri tipi di intelligenza artificiale, non soltanto chat GPT o DALL-E2 che sono in realtà soltanto due esempi, ce ne sono veramente molti, molti di più. Li vediamo insieme quest'oggi in questo video che potete considerare una vera e propria lista, un po' come se fosse una lista della spesa, in questo caso potremmo chiamarla lista delle AI, ok? Bene, andremo anche ad approfondirle suddividendole in categorie. Questa lista peraltro la troverete o la trovate, dipende dal momento in cui state guardando il video, anche sul mio canale Telegram, Chioccio la Tutorial Express, eccolo qui, vedete. Vi basta cercarlo all'interno di Telegram oppure cliccate il link che trovate in descrizione e in qualche maniera ci arrivate senza troppe difficoltà, ecco. Quindi direi sigla e cominciamo a parlare proprio di intelligenze artificiali. Ho deciso di suddividere il video in categorie per andare a semplificare un pochino la ricerca e il ritrovamento di questi strumenti, appunto, di intelligenza artificiale. Partiamo da uno strumento veramente incredibile, bellissimo, penso di non averlo mai visto prima d'ora, che è veramente fighissimo, non richiede nessuna categoria, da tanto è bello. Vi sto parlando dello strumento TOM. Vedete uno screenshot della pagina web, eccolo qui, che ci consente di andare a creare delle slide, in questo caso assomiglia abbastanza a PowerPoint o a Google Slides, ma usando l'intelligenza artificiale. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a scrivere all'interno di un campo di ricerca, all'interno di una specie di prompt, ecco, di un comando, nella parte bassa. Eccolo qui, vediamo un pochino. Tra qualche istante comparirà, stiamo in questo momento sul sito ufficiale. E andando a scrivere, all'interno di un campo possiamo andare a dirgli io in questa slide voglio questo, eccolo, lo state vedendo. Vediamo se riesco anche a mettervelo in pausa. Eccolo qui, vedete? Io in questa slide voglio questo, in quest'altra voglio questo, con questa foto, questo video. E così andate a gestire le vostre slide, ma voi date soltanto le istruzioni. Sarà poi l'intelligenza artificiale che ve le andrà a creare. Quindi direi molto bello. E veramente, penso, ci arriverà un tutorial completo per quanto riguarda questo strumento, perché mi pare veramente molto interessante. Andiamo avanti a questo punto. Entriamo nella categoria che ho voluto definire legata all'organizzazione e alla produttività. Prima di tutto parliamo del famosissimo, dell'elefante nella stanza. Parliamo di chat GPT. È quello che ci consente di andare ad ottenere un testo partendo da un cosiddetto prompt. Cioè un comando, un'istruzione, potremmo tradurlo in italiano. Che noi andiamo a scrivere all'interno di un campo, di una casella di testo, insomma. Battiamo invio, inviamo in qualche maniera questa istruzione. E questo chatbot, questa intelligenza artificiale, ce la elabora e ci risponde in lingua italiana. Cioè noi possiamo effettivamente comprendere quello che in questo caso è una macchina, perché intelligenza artificiale o meno, comunque di macchina si tratta, insomma. Dicevo, quello che una macchina ci sta effettivamente dicendo, ci sta andando a rispondere. E questa è, se vogliamo, la novità, la rivoluzione incredibile di questo strumento. Proprio la possibilità di comunicare in lingua vera e propria, in lingua comprensibile. E non in codice, non in inglese, non con variabili costanti, ecco. E questo è anche il motivo per cui l'ho inserito all'interno di organizzazione e produttività. Solitamente questo servizio, questo chat GPT, viene inserito all'interno delle intelligenze artificiali generative. Ma io ho voluto inserirlo qui nell'organizzazione e nella produttività. Perché ci permette di fare qualcosa che è ancora più bello, se vogliamo, della vera e propria creazione. Perché per la creazione io intendo creazione di video, creazione di audio, creazione di podcast gestiti da un'intelligenza artificiale. Non tanto di un testo. Io un testo lo considero più una cosa basilare che fa una AI. Anche se ammetto effettivamente il fatto che io uso chat GPT per moltissimo tempo nell'arco della mia giornata. Perché mi sta aiutando a risolvere molti problemi, ecco. Dicevo, l'ho inserito in organizzazione e produttività perché penso che il suo utilizzo maggiore sia questo. Per carità, può anche essere usato per creare codice, per creare testo o altre cose. Ma io penso che sia utile per organizzare, per gestire la produttività. Quindi diciamo che è un po' a cavallo, ecco. L'ho voluto inserire in questa categoria anche un po' per bonus, se vogliamo metterla così. Avrei potuto inserirlo anche al di fuori, come ho fatto per Tom. Ma più o meno siamo lì, ecco. Non state a fare la punta, non mettete i puntini sulle AI per queste categorie, per favore. Perché sono abbastanza spannometriche. Secondo servizio che vi voglio introdurre è SuperHuman. Che ci permette di andare a gestire meglio la nostra mail. È molto semplice come strumento. Ne state vedendo lo screenshot. Il sito è anche abbastanza semplice. Dobbiamo semplicemente inserire il nostro indirizzo email e lui fungerà inizialmente da client di posta, ok? Per poi farci vedere, diciamo, farci esplorare lentamente le sue enormi potenzialità. Risponditore automatico, generatori automatico di risposta. Può rispondere anche veramente in automatico. Cioè non con il classico testo tipo sono in ferie, non posso fare questo, non posso fare quello. Ma va a elaborare una risposta in base al contenuto della mail precedente. Questo è un rivoluzionario, ecco. Cos'altro può andare a fare? Può andare a riassumerci una mail. Quindi se magari il nostro capo ci scrive una mail lunga 5 pagine, lui ce la può riassumere in 2 righe. E così capiamo, anzi in questo caso 10 righe forse. È una stima più adeguata. Per farci capire in breve qual è il concetto del messaggio. Funziona molto bene. Se non sbaglio però è a pagamento, ora sto controllando, sì è a pagamento. Il piano minimo costa 11 dollari, mi pare, 80 dollari. Comunque guardate nel sito insomma per capire anche qual è il pricing dello strumento. In quanto ultimamente tutte queste AI appunto come abbiamo visto in apertura stanno diventando sempre più utilizzate. Quindi ovviamente i prezzi varieranno anche da un giorno all'altro. Quindi mi raccomando controllate sempre. Magari potremmo darci questo video un po' come un appuntamento magari da fare ogni top mesi. Così vi aggiorno su quella che è un po' la situazione AI. Anche se non sono di certo la persona più esperta con cui parlare di questo settore. Anche se mi piace ecco. Quindi eventualmente consigliatemi anche se conoscete altri tipi di AI. Bene, lo fate con un commento. Entriamo a questo punto all'interno della prossima sezione. All'interno della sezione legata alla creazione. Permettetemi un attimo una breve digressione per specificare che cosa intendo io con creazione. Io con creazione intendo tutto ciò che ci permette di creare un contenuto. Ok? Non ho inserito già GPT per l'appunto perché ci crea un testo che io non considero un contenuto vero e proprio. Considero più una risposta a un nostro problema. Ok? Se vogliamo metterla dal punto di vista più letterale. Proprio di funzionalità spiccia. Ecco funzionalità pratica. Con creazione io intendo creazione di contenuti. Che possono essere audio. Che possono essere video. Quindi podcast e tutte queste cose qua. O che possono essere anche modelli. Vedremo tra qualche minuto. Overdouble per creare un modello di voce. Insomma abbiamo diverse sfaccettature anche di questo settore. Sfaccettature che cominciano ad essere elencate partendo dalla creazione di foto. O disegni o chiamateli un pochino come vi pare. Parlo ovviamente anche qui del secondo elefante nella stanza. Stanza che potrebbe essere l'insieme di tutte le AI. Ecco. Il secondo elefante nella stanza dopo c'ha GPT. E ovviamente da lì c'è un'intelligenza artificiale che ci permette di creare dei disegni. Delle illustrazioni se vogliamo chiamarlo più in termini di grafica. Ecco. Utili. E soprattutto non gestite. Insomma non sotto copyright. Quindi noi possiamo dirgli creaci. Che cosa ho fatto? Ecco questo è un esempio per esempio. Creaci degli orsacchiotti che fanno shopping in un orto frutta giapponese. E lui vedete che ci tira fuori queste quattro illustrazioni. Vedete che in questo caso. Non so se riuscite a percepirlo bene. In caso ve lo dico io. Sono dei disegni. Quindi non sono delle immagini. Sono più che altro delle illustrazioni. Potremmo anche dirgli. Fammelo in pixel art. Fammelo come se fosse una foto. Oppure fammelo in questo caso come se fosse un disegno. Quindi possiamo anche dargli delle specifiche da questo punto di vista. Se vogliamo andare un pochino più sullo specifico. Diciamo che con DalliTube possiamo dare tre specifiche. Il soggetto. L'ambientazione. Ambientazione. Ovviamente con soggetto si intende anche l'azione che il soggetto sta svolgendo. Quindi soggetto, ambientazione, stile. Queste sono le tre variabili anche se in realtà variabili non sono. Non essendo una vera e propria macchina programmata ma un'intelligenza artificiale. Insomma i tre valori, i tre parametri che possiamo dare al nostro strumento affinché ci generi il risultato migliore. In alternativa a DalliTube possiamo valutare anche Mid Journey che ci permette anche in questo caso di creare delle immagini. Che possono essere delle immagini anche in questo caso di orsacchiotti in disegno, in pixel art, in grafica vera e propria. Questo lo scegliete voi o in stile foto ecco. Ma sappiate che alla fine si equivalgono l'uno con l'altro. Anzi io personalmente per quelle poche volte che devo utilizzare uno strumento del genere vado tranquillamente con Dalli2 o DalliTube se vogliamo dirla all'inglese. Perché è quello più mainstream, quello che penso posso darmi il risultato migliore ecco. Se cercate qualcosa di molto particolare magari potrebbe interessarvi anche Mid Journey. Ma diciamo che per quanto mi riguarda va benissimo anche il primo dei due cioè appunto Dalli. Andiamo avanti, andiamo avanti con la prossima categoria di strumenti rappresentata da Scientisia, si dovrebbe pronunciare così, che ci permette di creare dei video. Sono sostanzialmente dei video in cui c'è un nostro avatar animato che parla. Che cos'è un avatar per chi fosse un pochino più indietro diciamo come novità tecnologiche? Un avatar è una persona, potremmo definirla, un'immagine dalle sembianze di una persona. Che si muove, che si atteggia in maniera simile a quella di un umano. Non a caso ci permette di creare dei video che quindi gesticola, che muove la bocca, che magari muove la testa, che si sposta con il corpo. E non posso farlo perché col microfono ecco. Che si sposta con il corpo e che quindi va a risultare un pochino più umana. Se la paragoniamo ovviamente con i classici avatar che sono quelli messi così, tutti impostati, che parlano fissi così, senza muoversi neanche di un millimetro. Insomma diciamo che non è un buon modo per atteggiarsi ecco. Ecco appunto che questa intelligenza artificiale lo fa molto meglio con questi avatar. Vi ho preparato un esempio di video generato da un'intelligenza artificiale di Synthesia con questo strumento. Eccolo qui. Stiamo guardando il video demo del sito. Ve lo faccio vedere, magari una piccola parte, non tutto. Ma così almeno capite qualcosa. Ok, qui comincia con le specifiche legate al sito. Ma questo vi fa capire quanto in realtà funzioni abbastanza bene. Perché se vedete la parte introduttiva, ci sono queste persone che neanche sembrano degli avatar. Sembrano delle persone vere e proprie che sono effettivamente davanti a una telecamera. Avete visto anche brevemente il funzionamento. Voi andate a scegliere la persona che volete che parli. Andate ad inserire il testo all'interno del box, insomma, del, come si può chiamare, box in italiano, non lo so, della casella, ecco. Nella parte sottostante dell'interfaccia e ottenete così il vostro testo. Questo è il funzionamento a grandi linee, ecco. E tra l'altro non mi sono informato sui prezzi. Ancora una volta vi invito ad approfondire, prima di sottoscrivere eventualmente un abbonamento. Beh, ci mancherebbe perché qui i prezzi cambiano. Siamo a 30 dollari al mese. Quindi anche qui diciamo che non è un costo che si sostiene a cuor leggero. Ma se magari siamo un'azienda che deve fare dei video promozionali, ecco che se vogliamo affidarci ad uno strumento comunque rodato, comunque che sia efficiente, beh, 30 euro. Sono ben che ripagati, ecco. Quindi anche qui, molto bene, direi. Anche questo Scientistia funziona benissimo, l'avete visto? Avete visto proprio il vero e proprio esempio. E entriamo a questo punto nell'ultima categoria, nell'ultimo strumento, che è Overdub. Overdub ci permette di creare della voce, un modello vocale da utilizzare per i video, non con i video, ma per i video, per i podcast o anche sostanzialmente per degli audio veri e propri qualunque. Noi possiamo andare a registrarci, quindi ci facciamo anche con il nostro cellulare un audio di 20 secondi in cui parliamo, lo carichiamo all'interno della piattaforma e lui ci va automaticamente a creare un modello vocale basato sulla nostra voce, con il nostro accento. Non per tutte le lingue, mi pare che per esempio l'italiano sia supportato solo un italiano standard, non c'è, che ne so, un accento milanese o un accento, non lo so, un qualcosa che differisca dal milanese, il napoletano, ecco. Quindi non possiamo scegliere tra questi due tipi, diciamo, di italiano, che poi alla fine non sono tipi, ma sono degli accenti, delle cadenze in questo caso, o anche il Veneto che ha una cadenza molto in stile cantilena, ecco. Abbiamo soltanto l'italiano quello ufficiale, ecco, la lingua di Dante, possiamo scegliere per ora soltanto quella, con l'inglese invece anche diversi accenti, cosa che abbiamo anche visto peraltro in Scientistia. Io vi sto indicando sullo schermo ma non vi sto facendo vedere niente, ecco qui il sito, anche qui voglio farvi sentire un breve esempio, non lo so, scegliamo questa persona qua. Ok, e questo era l'esempio di questa Carla, che è un utente del sito, in questo caso ovviamente sarà un utente inventata, una specie di collaboratrice dello strumento, perché per motivi di privacy non possono diffondere le voci della gente. Quindi sarà una persona vera e propria in carne ed osta, che si è effettivamente registrata, ha caricato questa voce all'interno del portale, insomma, che ha creato un modello. Quindi, che ne so, un modello del respiro, un modello dell'accento per certe parole, per certi monosillabi, tigrammi, trigrammi. Sicuramente saprete meglio di voi come funziona il parlato, saprete meglio di me come funziona il parlato italiano, ecco. Quindi, diciamo che se la cava abbastanza bene, anche se avete sentito, sembrava, soprattutto inizialmente quando ho detto, ciao sono Carl, sembrava avere comunque un po' una cantilene stile robot, ecco. Ma sicuramente si può ancora ampiamente migliorare, ecco. E andiamo con l'ultimo strumento, a questo punto è l'ultimo strumento della nostra lista, che è Clean Up, che ci permette di eliminare oggetti dalle nostre immagini. State vedendo un esempio all'interno della slide, della grafica, in cui si sta cercando di rimuovere una matita, che cos'è, un righello forse dall'immagine, semplicemente selezionandolo, e lui poi ce l'andrà ad eliminare in maniera molto efficace. Possiamo caricare ovviamente le nostre immagini, attenzione però che con il piano gratis possiamo scaricarle soltanto in bassa risoluzione, che sono comunque, mi pare, un HD, quindi non è un Full HD o un 4K come qualità, ma è comunque un più che decente HD, poi se volete ovviamente fare le cose ancora una volta per la vostra azienda, per il vostro lavoro, mi pare che il costo non sia neanche molto elevato. Mi sarei dovuto preparare prima, ma vado a controllarlo in presa diretta, diciamo, ok, Clean Up AI, e vediamo, eccolo qua. Ok, così forse riesco anche a farvi vedere l'esempio, vedete, qui c'è questa penna, ai 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 ai, devo togliere, devo fare così, c'è questa penna che viene semplicemente selezionata ed eliminata, come avete visto. Pricing, ecco, vedete, 3 dollari, 5 dollari, quindi nulla di così importante, ecco. E con Clean Up abbiamo chiuso questa lista, questa specie di rassegna stampa per quanto riguarda le intelligenze artificiali, queste sono le principali, il video si chiama tutte le AI, o almeno io l'ho chiamato provvisoriamente così, poi non so quale sarà il titolo del video pubblicato, ma queste sono le principali, di certo le più importanti, quelle che penso possano in qualche maniera rivoluzionare il mondo, ovviamente a partire da già GPT, questo ci mancherebbe altro, e insomma questo è quello che penso. Approfondite questo tema, ve lo auguro, insomma ve lo invito, perché è sicuramente un argomento interessante che dominerà questo 2023, e fatemi anche sapere cosa ne pensate, se conoscete qualche altro tipo di AI scrivetelo nei commenti, così chissà che io non ci possa fare un secondo video, un tutte le AI disponibili sulla piazza parte 2. E questo è quanto, grazie mille per aver seguito fino a qui, vi ricordo la presenza della mia newsletter produttività.exe, e basta direi un abbraccio e ci vediamo prossimamente, ciao ciao! Grazie a tutti!